Che cosa sta succedendo? Questo è veramente un hack Oh ma che... Se trovo la vegetale ragazzi tiro fuori il c***o No no il c***o stavo scherzando No 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 torna dopo testa di c***o non faccia Ok mi hai mandato in avanti godo bravo Perché ho girato tu da oggi non giochi più Deciso Ah così in due Ma il doppia... la doppia V verde non so se lo sai ma è quello per il record mondiale Ciao ragazzi sono Zenzio G E non avete idea di che cosa è successo l'altro giorno mentre stavamo in live In pratica mentre io e Luca stavamo giocando come al solito a StumbleGuys Sono entrate due persone veramente molto losche Tra cui uno era Ratio, quello dell'altro giorno Solo non abbiamo capito bene se effettivamente questi due ragazzi sono due hacker, due cheater Oppure due persone normali che sanno fare cose che noi non sappiamo fare Detto questo non vi spoilerò nulla guardate il video dal inizio di una fine Perché ci sono un sacco di parti divertenti, dei piccoli e buona visione Oh mio dio ragazzi ma è entrato uno col nome MISTICO Ma che cos'è un francese pazzo? Assurdo È pure in chat Oh mio dio è entrato un hacker Che cosa sta succedendo? Queste sono veramente le hack Che cosa sta succedendo ragazzi è entrato un hacker? Vabbè Dai Lampu io voglio il nome LGBT ti prego ti prego ti sto supplicando Ma c'ha la skin da francese Sì ma non vale ma lui sa dove è la cosa E infatti è caduto Pensate se non lo sapeva Oh ma che Oh È di qua No non è di qua Peccato Ragazzi siete dei bambini di c***a con quel balletto che se ve lo potessero togliere mamma mia Giuro Oddio mi sto collato Io non capisco cos'è che sbaglio Io non capisco ragazzi che cos'è che sbaglio Tranne che giocare magari a stumble Lampu è passato? Vabbè è un cheater ovvio che è passato No ma è un cheater C'è al 100% Dai cos'è? Ma sono delle hack Mi sa di sì Non sono hack Come non sono hack E come fai scusami No lampu ragazzi non ce la racconta giusta Le cose sono due Ma si può segnalare? No Stendetelo allora No no ragazzi c'è un problema Se queste non sono hack io mi chiamo Pipina Ma gelato Gelato Tu che sei il mio uomo Prendi lampu e buttalo fuori Vai gelato Oh lampu di Ma eccolo qua gelato È il mio uomo gelato Pensaci te gelato Allora gelato Se lo butti giù Non ti banno più È un moderatore del gioco Mi hanno scritto in chat No ragazzi Secondo me è un cheater Vai No gelato ma sei morto Vabbè guardiamo ragazzi il cheater come gioca Perché devi guardar me? Dopo vado in ansia No no sto guardando il cheater Lampu Ce l'ho fatta Che poi è un cheater francese Cioè peggio di così non poteva andare 8 rimasti Comunque da oggi ragazzi Sono diventato ufficialmente il caster Numero 1 di Istanbul Guys Le mappe le ho viste tutte Più di tutti Ho visto tutto quanto Sono fortissimo Sono sempre qua Ok Sono delle hack Ho però scoperto come Sono delle hack Eh conferma Sono dei hack Non sono dei cheater ragazzi Non cheater Non cheater Non cheater Oh mio dio è pure forte il cheater Zitto 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 L'hai steso L'hai steso l'ampu Lampu Eh sì è stato lui ragazzi Eh niente Sei uno st***o però Ti devi vergognare Eh però non sa giocare Eh ma grazie gabbo Cioè in realtà sì Più o meno Cioè Sicuramente è meglio di me Chapeau Vabbè c'è un problema C'è un problema se qualcuno Sta giocare No vedi da dove No Non mi ha fatto spawnare All'inizio Ah il Bernardeschi vince Il Berna Così arriva primo Con l'ampo dietro Che lo segue Cittando GG Ok skin casuale Ragazzi mi esce la leggendaria Mi denudo in live Mi denudo in live Se esce la leggendaria Perfetto Kinepica 37 V-Bucks Facciamolo Uno spin ragazzi Se trovo la leggendaria ragazzi Tiro fuori il c***o Scherzo non ho il c***o Non ho il c***o Stavo scherzando Ho trovato la prima leggendaria Ok Ma vecchio Sì ma cos'è Ma perché puoi mettere le bandiere Come fai Tampu Venga in privato Tampu ho bisogno Ho bisogno del tuo aiuto No 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 Tornato testa Non faccio Ok mi hai mandato in avanti Godo bravo Andiamo La skin leggendaria nuova Ma le mani non cambiano Sono sempre quelle Aia Voglio morire No 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 Vedi 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 Che è proprio Ragazzi sentetene qualcuno lì per terra Mi prego Dai KLS Samu Complimenti Vedo che hai preso troppi pochi c***o Ce l'ho fatta Vi prego Allora ragazzi aiutate il vecchio Zan SG vi prego Scrivetemi per quale motivo il mio personaggio ragazzi con l'Apex Pro quindi sto giocando da PC con il mouse stasera Non riesce a fare i doppi salti che fanno le altre persone Perché Zane spammi troppo il salto del tasto Ma come spammo troppo Spammo troppo poco Perché non riesco a saltare Spammo il salto del tasto Arrivo io ragazzi Passo io tranquilli Faccio io Sto per estremiare in sette lingue diverse Ok Aspettate Che bambini oh Di me Bambini di me Noi vecchio voglio proprio Sì perché troppo casuale troppo casuale troppo casuale troppo casuale troppo casuale Ma vedete ragazzi che quelle cose che fa Samu io non le riesco a fare Ma non capisco perché cos'è che sbaglio Com'è che do premere spazio Ma guarda Samu che me Ho sceso Suss E Suss non passa per colpa di Samu Naxi segni Samu No non ce l'ha fatta Vieni passano insieme Ti guardiamo Eh io voglio vedere Minecraft Oh Guarda Simo che maiale No voglio vedere Simo ragazzi Mi piace Simo Hai il valente dell'abbraccio Vai Simo facci sognare Se diciamo le mappe dovrebbero aggiornare una volta a settimana in realtà Ma vince Minecraft No dai non posso vedere Minecraft che vince Esatto Ma io non posso parlare Vabbè ragazzi ha vinto Ha vinto EXP Ma io non posso parlare Ha vinto EXP Ha vinto ACCE Bravo ACCE Ragazzi Zane comunque è proprio il gufo Cioè io ve lo giuro ragazzi Non ha senso Vedete quanto è sfigato Zane Ma è tornato Ratio? Ma ragazzi ma c'è anche il lampo Ma cosa sto vedendo? Ah così in due Ma la doppia W verde Non so se lo sai ma è quello per il record mondiale Ma come? Sì Ah no ha girato completamente il gioco Quindi adesso sono due i cheater ragazzi Non ne bastava un'ora sono due i cheater No bro che figata però giocare contro i campioni mondiali Ma come i campioni mondiali? Eh poi sono i campioni mondiali non so cosa dirti No vedete che dovete prendere quattro c***i al secondo In realtà sono più forti io di loro Che siamo? Perché ho girato e tu da oggi non giochi più Deciso Ma immagino già cosa ha fatto No no Io la tiro Mamma mia signori Oh è morto È morto il campione Non è rimasto un altro Non è rimasto un altro Il ratio fa schifo Oh bambini di m***a Ma si possono banarli i mot? Basta Basta Voglio un c***o Voglio un c***o Sì voglio un c***o ragazzi No ragazzi No non mi colli Fa le motte in ritardo Mannaggia tutti qui Ma che c***o sto vedendo ragazzi C***o ragazzi posso passare No ok Se vai Oh il c***o È rimasto vivo e l'ho ucciso È veramente un c***o È veramente il campione mondiale È proprio lui signori Il campione mondiale slash cheater Il campione mondiale giornale nostre lobby Vi spiego Ma guarda quello che serve Quello No quello ha provato a saltare E lui ha messo la barra invisibile Ah è vero È proprio un c***o signori No Lampo la devi smettere di cittare Lampo Devi smettere di fare queste cose Mamma mia che maiale Lampo è perché adesso si butteranno tutti in acqua Meno male che gli Oh No no vecchio Lampo sapeva esattamente dove andavano le bombe È un hacker Ma è rimasto qua? Oddio che succede? Eh sì No secondo me no Eh mi sa che gli arriva una bomba Eh gg Stava per vincere Vinto Ace ragazzi Basta Basta No vecchio dai No ragazzi io basta Smetto di giocare Mi sono rotti con C'ho Z davanti a me ragazzi Voglio prendere Tranquillo sono dietro Godo Ragazzi guardiamo Ratio Da essere lo sviluppatore ieri A oggi è diventato un cheater In realtà era un cheater Ma non lo sapevamo Pensavamo fosse lo sviluppatore È proprio lui ragazzi Ratio il cheater Ah così Oh mio dio ma come l'ha ucciso L'ha preso L'ha fullboxato Ma bro Ma bro Ma c'ha già due kill Ma ragazzi C'ha due kill sopra la sua testa Guarda qua Ma c'è la strategia Li stende E poi li abuglia Sì sì proprio da dietro Oh E Andre E l'Andre ha avuto abbastanza fortuna Oh Tre kill sopra C'ha tre kill bro Tutti impauriti Eh la skin rossa adesso è impanicata La tipa rossa è impanicata Il pollo l'ha ucciso Oddio Ma quanto è forte Ma Ratio ragazzi non ha Eh bro c'ha tre kill E tre kill cioè Sono morti in tre Praticamente tutti quelli che sono morti Li ha fatti lui Li ha seccati lui Ragazzi se li secca un altro Uno è morto Eh ma ti dico Morto un altro Mi sa che la vince Eh ma adesso prende le frecchie due mazze Sì 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 ma è vero Sta farmando Oddio ha missato Oddio Eh sì Sta chillando Attenzione Vabbè Oh mio dio L'ha preso L'ha messo L'ha ucciso Porca No Oh mio dio Andrea è fortissimo Che incazzatissimo No L'ha preso e l'ha messo dentro Che tozzic Che tozzic Ragazzi è il figlio Ma anche Ratio non scherza Lucas Oddio No vabbè No vabbè Ha fatto 5 kill su 7 No ragazzi Ratio non ha senso Cosa c***o ho appena visto 5 kill win ragazzi Buone Perché Cosa c***o ho appena visto